E' una innovativa sala operativa della Polizia Municipale che consentirà il monitoraggio in tempo reale di gran parte del territorio di Pescara grazie a 332 occhi elettronici. Si chiama Control Room ed è stata creata all'interno della Exonmi di Via del Circuito. Sugli schermi sarà possibile visionare tutte le immagini che arrivano da 332 telecamere puntate su tutta la città e le foto e video registrati dal sistema resteranno in archivio per sette giorni. Hanno sottolineato il sindaco Carlo Masci e l'assessore alla sicurezza urbana Adelchi Sulpizio durante l'inaugurazione alla quale hanno partecipato il sottosegretario di Stato all'interno Nicola Molteni, il prefetto Giancarlo Di Vincenzo e le massime autorità civile e militari abruzzesi. Il sottosegretario Molteni ha evidenziato che quando c'è perfetta sinergia tra le istituzioni si raggiungono importanti obiettivi e ha ricordato che il Ministero dell'Interno ha contribuito alla realizzazione di questo progetto stanziando 900 mila euro. Triennio 21-23 sono stati stanziati dal Ministero dell'Interno qualcosa come 65 milioni di euro proprio per aiutare le amministrazioni locali e i sindaci ad essere co-protagonisti della sicurezza dei propri territori. Quindi oggi inauguriamo un modello assolutamente virtuoso di efficienza, di operatività da parte dell'ente locale sul tema della sicurezza urbana. È particolarmente piacere che in questo investimento ci siano 900 mila euro investiti dal Ministero dell'Interno perché c'è una progettualità che parte dal 2017, Ministro Minniti continua nel 2018, Ministro Salvini e prosegue oggi con il Ministro Lamorgese per garantire e investire in sicurezza locale proprio perché i bisogni e le esigenze dei cittadini chiedono questo. L'utilizzo degli impianti è finalizzato all'attività di prevenzione, indagini, accertamenti di atti illeciti e a prevenire fenomeni di degrado come la presenza di discariche abusive, tutelare ordine e decoro e monitorare viabilità traffico e verificare il sistema degli impianti semaforici, ha spiegato l'assessore Sulpizio. L'impianto di videosurveglianza, che lo possiamo dire in alta voce, è il più avanzato tecnologicamente in Italia e oggi stiamo facendo vedere le potenzialità, il sottosegretario è rimasto anche stupito perché ha delle potenzialità uniche. Siete già proiettati verso progetti futuri, ci può dare qualche anticipazione? Sì, questo è un impianto modulare, la cosa più importante è che oltre non si limita a registrare, come avete visto c'è un sistema di intelligenza artificiale che consente sia in fase preventiva che anche successiva a un reato di capire in qualche minuto che cosa è successo. Siamo anche proiettati con i negozianti per quelle telecamere che loro già hanno disponibili ad esempio sulle aree pubbliche. In questo contesto noi siamo in grado di fare un protocollo intesa con loro affinché le loro telecamere in quel contesto possano entrare nella nostra control room. Per noi significa non dover provvedere alla manutenzione, alla pulizia di una telecamera, alle spese per un'installazione, ma allo stesso tempo ci consente di avere anche ulteriori controlli in determinate zone.